Questo programma contiene linguaggio volgare, un po' di sofferenza e scene che alcune persone potrebbero trovare offensive. Sparavatti adesso Onibus. Capisco se mi ha visto. Preso. Dov'è? Che è lì? Eh sta camminando benissimo. Andi a Gallito! A me. Nascondetevi. Mi hanno ferito. Eccolo, lo vedo. Dov'è? 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 C'è un attacco. Dov'è? Dov'è? Ragazza, sono due. Sono qua, Slimeer. Ti vedo, ti vedo. Ti visti? Sono entrato dentro casa. L'ho fatto, un altro sta dentro la casa. Bravo. Quello in ghili è ucciso? No, il ghili sta dentro la casa. Non c'era rossa. Solo è la strada. Eh, ci farebbe comodo una garratina, eh? Vado io a carotare. Eccolo, ecco l'ho uscito. Dove? Ah, l'ho visto. Casa rossa, casa rossa. Sparaggio. Sparlito. Bravo. Io adesso vado prima dove stavano, poi due. Tanto so due. Resta nascosto all'ultimo piano, io arrivo. Arrivo da dietro, li facciamo tutti. Due, quattro, insieme. Bravo. Bravo. Bella. 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 Eh, c'è un altro. Morto. Bravo, Carlino. Bravo, Carlino. Bella. Non è il colpo di Kevin, forse. Devo fare carotena. Sì. 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 Nel gruppo di Kevin, è un amico di Logan, sicuramente. Sì, sì. Una gara è quella che abbiamo massacrato. Bella. Bella, Carlino. Un attatto. Un attacco. Dove? Un attacco. La, un marker. Faccio il gaggio. Uno è morto. Bravo. oh c'è un bambi dove? sta arrivando verso i corpi è davanti sulla pista? si sta davanti a corpi è entrato dentro c'è una zappa dietro la schiena è entrato dentro è uscito ok dove è andato? oh cazzo l'hai ucciso tu bastardo oh contatto due dove? qui davanti a me ah si fermi 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 l'altro l'altro non lo so e qui l'altro versi di te che è lì scappa scappa in mezzo alla pista verso la tecca wow che è lì che l'ho ucciso? che l'ho ucciso? un accalito ah di bravo Carlo bravo bravo c'è ma l'hai ucciso? c'è ma l'hai ucciso? solo 360 metri no mi sa che non è lui no no c'è un cecchino a me ha ucciso a me ha ucciso loco locus oddio oddio eccolo la bravo scala tech io si si quello è l'htc high tech sono dentro sicuramente va fuori va verso i palazzoni non vedo la parte bravo Carlo ce n'è un altro ma quale detto oh cazzo bravo bravo